uno del laboratorio di ressonanza magnetica al CIMEC è quello di caratterizzare in modo non invasivo sia la struttura che la funzione di tutto il cervello e cercare di comprendere con questo meglio le funzioni cognitive soprattutto le funzioni complesse come quelle del linguaggio riconoscimento degli oggetti la memoria eccetera il laboratorio si complementa molto bene con gli altri laboratori di neuroimmagini che ci sono già al CIMEC siamo particolarmente contenti di avere una macchina nuova all'avanguardia per il studio del cervello è unica nel Trentino la tecnica che uso all'interno del CIMEC per la mia ricerca è la risonanza magnetica funzionale in particolare studio i meccanismi neuronali coinvolti nella pianificazione di azioni simili a quelle che compiamo migliaia di volte nella vita di tutti i giorni questa ricerca ci aiuterà a comprendere meglio alcuni disturbi motori che sono causati da danni e malattie cerebrali il mio gruppo è usato un'imagine che è a compito quali il cervello il cervello è possibileどうche in un'imagine di una cosa di informazione che ci sono inutili in un modo di farlo in diversi domando di nole questo è quello che fa noi più più di più come l'imagine l'imagine può usare le conseguenze delle mani di questa flexibilità e cosa succede quando si sono in un'imagine come in dimensione In my group, we use brain imaging to understand how the cortex represents different kinds of knowledge about people, places, food or motion and critically how these bits of information can be combined into our rich, virtually limitless knowledge of the world We hope to use this research to uncover individual differences in how we know and learn as well as what happens to our brain's knowledge system as we age Thank you